cara mamma caro papà oggi a scuola i ricercatori dell'enea ci hanno detto che dobbiamo risparmiare energia per proteggere il nostro pianeta perciò come regalo vorrei un po di termovalvole per regolare le temperature dei termosifoni finestre con doppi vetri e un bel cappotto per i muri così caldo non scappa via li vendono in tanti negozi lo stato ti dà i soldi sul 7,30 fino al 65 per cento di quanto hai speso che ne dite ci proviamo